Scusate, sono emozionata. Ma lei è la giusta sostenitrice di Vendola, diciamo, nel preambolo. Mi permette la battuta, Vendola. No, no, ma abbiamo capito, mi scusi, non deve essere emozionata, Renzi la sta ascoltando, prego. Grazie. Ha l'intenzione di aprirsi a Oscar Giannetto, che per chi non... Giannino. Giannino, scusate. Prego. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Lo zoo comunale, lo zoo comunale è quello in cui i giornalisti e anche chi guarda le primarie tutti twittano, non fanno altro che twittare, quindi da oggi in poi mi tocca salutarvi come Oscar Giannetto, ma vi pare... Sì, perché mi ha chiamato Oscar Giannetto, quella che ha fatto la domanda a Renzi, tutti su Twitter, risposta come se io avessi la cosa Giannetto. Sì, Giannetto, un mondo di Giannetti. Meglio Giannetti che Giannettini, per chi ha una certa età si ricorderà. Comunque, vabbè, Giannetto vi saluta, ma twittate meno, leggete più libri, dico io.